La parodontite è collegata con l'osteoporosi per il fatto che si occupa dell'osso e dei tessuti di supporto del dente, così come gli impianti, quelle vidi che noi inseriamo nell'osso per sostituire i denti persi, hanno bisogno di un osso in buona salute. È un osservatorio decisamente privilegiato, quello dei dentisti, riguardo la possibilità per un paziente di soffrire di osteoporosi. La parodontite, conosciuta anche come piorrea, è spesso associata alla mancanza di vitamina D. La parola chiave è prevenzione, ecco perché l'IMOP, Accademia Italiana di Medicina Orale e Parodontologia, e l'International Mycodentistry Institute promuovono il mese della vitamina D, in occasione del congresso mondiale di osteoporosi che si terrà a Firenze dal 23 al 26 di marzo. Ci si accorge della carenza di vitamina D, spesso casualmente, facendo un'analisi del sangue con un medico che prescrive anche il livello plasmatico di vitamina D. L'osteoporosi purtroppo è un problema che può insorgere anche in età molto precoce, quindi noi spesso vediamo, e da questo punto di vista l'odontoiatra ha un osservatorio privilegiato, osteopenie o osteoporosi addirittura in ragazzi, in giovani di 30 anni. Quindi se non viene diagnosticata precocemente e non si fa, quindi non si attiva un processo di prevenzione, e il paziente poi si frattura anche a un'età che non è quella tradizionale, classica, dei settantenni o gli ottantenni. Non solo dunque una campagna informativa, ma uno screening vero e proprio, che si terrà per tutto il mese di aprile nel network di cliniche high-tech e di NIMI. Noi in questa campagna di prevenzione facciamo uno screening crociato fra la parodontite e l'osteoporosi, quindi facciamo le visite gratuite per la parodontite e facciamo la valutazione densitometrica qualora ce ne sia necessità. La valutazione densitometrica misura la densità dell'osso, noi la facciamo a calcagno, poi qualora ce ne sia bisogno il paziente può farne una più completa che si chiama DEXA, che valuta la mineralizzazione dell'osso sia a livello del femore che a livello della colonna. Per noi come odontoiatri fare uno screening su tutti i nostri pazienti vuol dire fare semplicemente un test di rischio genetico sul recettore per la vitamina D. Questo ci guida sia nel sviluppo del piano di cura e nell'esecuzione corretta di questo piano di cura perché ci allerta nei casi in cui i pazienti possono avere l'osteopenia o l'osteoporosi e soprattutto li indirizza all'endocrinologo, al medico di base per una valutazione ematochimica di questi livelli plasmatici di vitamina D che sono spesso associati a quell'alterazione del recettore che noi verifichiamo essere peggiorativa della prognosi della parodontite. Questo screening lo faremo in tutte le nostre cliniche, quindi Torino, Milano, Padova, Firenze, Roma, Catanzaro per tutto il mese di aprile.